Ciao ragazzi, ho aspettato per circa 10 minuti che il tizio con la musica a palla che ha parcheggiato qui davanti se ne andasse via Finalmente se ne è andato e posso girare il mio video Rimanendo in tema 10, oggi voglio farvi vedere 10 prodotti sotto i 10 euro Trovo che questi video siano veramente carinissimi perché si scoprono tanti prodotti interessanti a prezzi molto molto bassi Come vi dico sempre non serve spendere tantissimi soldi per trovare qualcosa che lavori veramente bene, che sia davvero bellissimo Quindi oggi voglio farvi vedere i 10 prodotti che ho trovato io sotto i 10 euro Ma se ne avete qualcuno da condividere lasciatecelo scritto qui sotto così lo andiamo a cercare e scopriamo altri prodotti Iniziamo subito senza perderci in chiacchiere Ho qui il mio quadernino con tutti quanti gli appunti, con tutti i prezzi, tutte le colorazioni disponibili di tutto quanto quello che vi faccio vedere oggi Il primo prodotto di cui voglio parlarvi sono i Metal Shock e Shadow di Essence Questi qui sono degli ombrettini in crema che hanno l'applicatore, tipo quello dei luci da labbra per capirci Li applicate direttamente sull'occhio, li sfumate leggermente con il pennello e con il dito Potete utilizzarli sia da soli sia come base per il vostro ombretto Preferisco personalmente utilizzarli come base per l'ombretto perché non sono waterproof C'è il rischio che vadano nelle pieghette anche se a me non succede Però mi piace di più utilizzarli come base per l'ombretto perché durano tutto quanto il giorno Intensificano di più l'ombretto in polvere che poi ci vado a mettere sopra e non mi fanno le pieghette Le colorazioni disponibili in negozio sono 7 e il prezzo per questi ombretti è di 4,49€ ciascuno Io ho preso 3 colorazioni, la prima è un pescato con dei riflessi oro metallizzato e si chiama One Second to Mars Il secondo è un oro che si chiama Solar Explosion, anche questo è metallizzato Il terzo è un pochino più glitterato, è una sorta di melanzana a base scura, quasi nera E si chiama Total Eclipse Mi piacciono veramente tanto e vi consiglio di andarli a dare un'occhiata se cercavate una base per il vostro ombretto Vi dirò di andare a dare un'occhiata a tutti quanti i prodotti all'interno di questo video perché mi piacciono tutti quanti Quindi cercherò di non ripeterlo troppo, però sono tutti quanti i prodotti ovviamente che mi piacciono Seconda cosa di cui voglio parlarvi e che secondo me vengono troppo sottovalutate sono le matite di Kiko Queste qui sono le Comfort Lip Liner e sono disponibili in 18 colorazioni e il prezzo è di 4,95€ ciascuna Quando le avevo acquistate le colorazioni disponibili erano circa una decina, quindi credo abbiano ampliato la linea L'unica cosa che potreste trovare un pochino nì sono le colorazioni disponibili perché non sono tanto naturali C'è una buona varietà, c'è qualche nude, c'è qualche colore un pochino più pazzerello, tipo c'è un viola bellissimo ma molto particolare Insomma sono delle colorazioni più particolari che classiche, però la tenuta di queste matite è fantastica Non seccano le labbra, ovviamente sono matte, quindi dovete metterci sotto un burro cacao e poi mettere su queste matite Però durano veramente un sacchissimo di tempo e io le adoro In particolare mi piace tantissimo la rossa che ho io, che è la 305, mi avete visto utilizzarla in un sacco di video La porto spessissimo, come sempre vi ricordo che sto linkando nell'info box tutto quanto quello che mi spiaccico sul viso Quindi se vedete in un video, non lo so, il rossetto che mi piace, basta che... il rossetto che vi piace, non che mi piace Il rossetto che vi piace, basta che andate a guardare nell'info box e scoprirete qual è Le colorazioni che ho io sono 4, partiamo dalla 302 che è un pesca non troppo chiaro di media intensità Ma questo colore è il più naturale tra tutti quelli che ho Poi ho la 305 che è il rosso di cui vi parlavo, bellissimo e che porto tantissimo Abbiamo poi la 310 che è un rosa, una sorta di rosa Barbie, molto freddo, un pochino più importabile Tra tutti e quattro i colori che ho, questo è quello più particolare e quello più importabile Poi abbiamo la 311, anche questo è un colore veramente bellissimo È una sorta di magenta chiaro Aiutatemi nella descrizione dei colori, non sono molto brava, però credo sia abbastanza azzeccato il magenta chiaro Questo colore secondo me con i capelli castani è qualcosa di fantastico Altra scoperta ad un prezzo davvero bassissimo sono le pinzette di Essence, cioè le Eyebrow Tweezer Non hanno un nome particolare Sono le pinzettine tutte decorate tipo in stile tribale Solo che non le ho trovate su internet, dovrei controllare sul sito di Essence se ce l'hanno Non mi ricordo quanto le ho pagate, circa comunque 2,50€ Il prezzo è davvero bassissimo e sono le pinzette che sto utilizzando sia per applicare le ciglia finte Sia per togliere le mie sopracciglia L'unica cosa è che dovete stare attenti perché queste pinzette tendono leggermente a strappare il pelo Cioè a spezzare, scusate, non a strappare Quindi dovete prendere il pelo e tirarlo un pochino con accortezza Però se non volete spendere 1000€ per un paio di pinzette super fighissime Potete provare a prendere queste di Essence per 2,50€ Blush carinissimo che ho acquistato su Machillalia è della linea LA Girl E si chiama Just Blushing nella colorazione Just Playful Questo blush l'ho pagato 7,79€ Le colorazioni disponibili sono 16, ce ne sono tantissime Ci sono sia colorazioni più naturali sia colorazioni un pochino più cariche e più particolari Questo blush in particolare è opaco Mi sembra che tutti quelli di questa linea siano opachi E è di un colore rosa antico davvero molto molto naturale e molto carino Trovo che questo blush mi duri tantissimo sugli zigomi Rimango intenso per tutto quanto il giorno e il colore mi fa impazzire È veramente stupendo Passiamo a due palettine che mi avete visto utilizzare tantissimo quest'estate Cioè sono la Cosmic Metals e la Lid Lingerie di NYX Cosmetics Queste due ve le straconsiglio Il prezzo di ognuna è di 9,90€ Le ho volute inserire insieme perché sono 6 ombretti della stessa grandezza Più o meno, no, non sono uscite insieme Però insomma voglio includerle come prodotto unico Perché sono davvero molto molto carine In particolare ho utilizzato tantissimo la Lid Lingerie Che ha tutti quanti i colori opachi E vi permette di concentrarvi o su un trucco veramente molto neutro Oppure vi permette di realizzare delle belle sfumature nella piega dell'occhio La Cosmic Metals invece contiene tutti quanti ombretti metallizzati e luminosi Ho utilizzato questo colore qui su tutta quanta la palpebra mobile Sopra l'ombretto in crema di Essence Questa palettina è molto molto carina Soltanto che contiene dei colori luminosi e anche più particolari Quindi se realizzate sempre il vostro trucco naturalissimo Vi consiglio di prendere la Lid Lingerie Se vi piace sperimentare anche con altre colorazioni Vi consiglio di prendere anche la Cosmic Metals Sono molto pigmentate, non troppo polverose E il prezzo è davvero super accessibile Questa è un'altra mia super scoperta Cioè non è mia Avete presente, sicuramente conoscete Niki Tutorials Che è la ragazza che ha spopolato con il trucco Quello metà viso struccato e metà viso truccato Lei ha utilizzato per un sacco di tempo In praticamente tutti quanti i suoi video Questo blush qui Che è il Baked Blush di Milani Nella colorazione luminoso Siccome l'ho sentito nominare anche in tantissimi altri video Ho voluto provarlo Perché volevo vedere che cosa aveva di speciale questo cavolo di blush A parte che nella scatolina qui sotto c'è anche il pennellino Che io trovo veramente essere inutile Potevano risparmiarselo U c'è anche lo specchietto Comunque potevano risparmiarselo e abbassare il prezzo Non lo so, di 1-2 euro Comunque questo blush è una sorta di pescato satinato Quindi luminoso ma non glitterato Molto molto naturale E molto portabile È il blush che oggi io sullo Ziggo Non so se lo vedete con tutte le luci che ho sparate qui in faccia In ogni caso lo sto utilizzando tantissimo Trovo che sia davvero naturale come colorazione Anche se dovete stare attenti perché è molto pigmentato Mi è capitato di utilizzare dei blush Baked blush Come si chiamano? Questi cotti E mi aspettavo che fosse poco pigmentato Quindi la prima volta che l'ho utilizzato Sono andata lì con il mio pennello E l'ho applicato E mi sono fatta due guance rossissime Tipo daidi Quindi state attenti perché questo blush è super pigmentato Ma è veramente veramente bellissimo Se vi piacciono i blush pescati Vi consiglio di prenderlo perché non ve ne pentirete Di questo blush ci sono 11 colorazioni disponibili E il prezzo è di 9,19 euro su Makilalia Attenti perché su Makilalia è sotto i 10 euro Se invece lo acquistate su Beauty Bay Mi sembra costa 11 o 12 euro Quindi attenzione, occhio Devo dire che mi è talmente piaciuto questo blush Che sono curiosissima di prendere anche altre colorazioni Un'altra cosa di cui voglio parlarvi E forse non ve ne parlo abbastanza Ma la utilizzo semplicemente nei miei video Un po' così di sfuggita È la spugnetta di Real Techniques La Miracle Complexion Sponge Questa spugnetta è diciamo Uscita dopo la famosissima Beauty Blender Ma secondo me non ha nulla da invidiargli Non ho mai provato la Beauty Blender E sarei molto curiosa di provarla Però con questa mi trovo veramente benissimo Ha una parte piatta con cui applico il mio fondotinta E un'altra parte appunto con il quale lavoro il correttore Io solitamente ne ho due Una ci applico il fondotinta e correttore E con l'altra ci applico la cipria nella zona sotto l'occhio Devo dire che per ora trovo impossibile realizzare il mio trucco Senza almeno una di queste spugnette Perché trovo impossibile più che il fondotinta lavorare il correttore Senza questa spugnetta Trovo che applicandolo con le dita Il correttore non si stenda bene come con la spugnetta E ci sia un eccesso di prodotto Perché quando vado a passare la spugnetta sopra la mia zona Sotto l'occhio La spugnetta si mangia tutto quanto il prodotto che è in eccesso E in questo modo evitiamo che il correttore durante la giornata Vada a fare quelle bruttissime pieghette Poi fissando la zona sotto l'occhio con la cipria Con la spugnetta Riesco ad avere ancora più perfezione E riesco a fissare benissimo la zona qui sotto E ancora una volta il correttore non mi va a fare le pieghette durante la giornata Ottava scoperta sono due rossettini di Maybelline Io questi li ho acquistati su Magillalia Ma probabilmente li trovate anche in qualche negozio E in altri store online Su Magillalia costano 4,50€ Le colorazioni disponibili sono 5 Le colorazioni di cui voglio parlarvi oggi sono la 983 Beige Baby Che è un nude rosato di media intensità bellissimo E 981 Purely Nude Sempre un matte Più o meno della stessa tonalità del 983 Ma un po' più chiaro Questi rossetti li sto utilizzando tantissimo Quello più chiaro Il 981 più che su tutte quante le labbra Lo utilizzo soltanto per fare il punto luce al centro Sia sotto che sopra Trovo che questi rossetti siano matte al punto giusto Nel senso che sono dei rossetti opachi Ma sono molto confortevoli da portare E allo stesso tempo durano abbastanza Sono comunque dei rossetti più verso dei rossetti classici Che verso dei rossetti liquidi Quindi la durata non può essere paragonata a quella di un rossetto liquido Però devo dire che resistono abbastanza E mi piacciono veramente tantissimo Se vi piacciono i nude Vi consiglio di guardare questi due colori Perché sono veramente fantastici Altra scoperta super carina è questa matita nera di Essence Cioè la Long Lasting Eye Pencil Questa è nella colorazione nera Cioè 01 Black Fever Questa è una matita automatica È super nera Non è waterproof Diciamo che si avvicina più ad una classica matita Kajal Che potete mettere sia all'attaccatura delle ciglia superiori All'attaccatura delle ciglia inferiori All'interno dell'occhio Trovo che a differenza di molte altre matite Questa mi resista un pelino di più all'interno dell'occhio Nel condotto lacrimale a me non dura nulla Tranne che l'eyeliner Quello in crema di L'Oreal Quello è l'unica cosa che dura all'interno del mio occhio Questa matitina qui non ha la stessa durata Però quando voglio qualcosa di non troppo impegnativo E di non troppo nero nel condotto lacrimale Utilizzo questa qui L'ho messa anche oggi all'attaccatura delle ciglia superiori Perché non volevo un effetto troppo intenso Volevo quasi un effetto di nero sfumato Si sfuma bene con il pennello L'unica cosa è che non è waterproof Quindi se avete un occhio particolarmente lacrimoso O se vedete che la matita tende a stamparsi Nella parte superiore Non vi consiglio di prenderla Ma se cercate una matita che si avvicini più Ad una matita classica Quindi vi ripeto ad un kajal Vi consiglio di prenderla Perché il prezzo è di 1,99 euro Non so quante sono le colorazioni disponibili Ma basta che andate in negozio e le trovate Ultimo ma non per importanza Voglio parlarvi dei nuovi rossetti liquidi di Maybelline Mi avete chiesto in tantissimi che cosa ne penso su questi rossetti Io ho due colorazioni Una è un nude che si chiama 05 Loyalist E un'altra è la 50 Voyager Che non è nient'altro che il rossetto che indosso oggi Questi rossetti secondo me hanno una formulazione abbastanza particolare Nel senso che non si asciugano mai completamente come tanti rossetti liquidi Però allo stesso tempo sono molto confortevoli da portare E non asciugandosi così tanto Trovo che il nude non diventi più scuro Cioè in tanti rossetti liquidi Ossidandosi i nude anche più chiari Diventano medio scuri Questo qui rimanendo così abbastanza cremosino Mantiene il suo colore nude Queste colorazioni mi piacciono tantissimo entrambe Le sto portando un sacco Soprattutto questa più scura La sto veramente utilizzando tantissimo L'applicatore all'inizio non mi piaceva molto Perché è una sorta di goccia Che concentra il prodotto al centro Però secondo me dovete un attimo capire come utilizzarle Nel senso che se lo usate di punta Questo applicatore lavora malissimo Dovete utilizzarlo di piatto e fare questa cosa qui Quindi mentre la parte centrale dell'applicatore rilascia il prodotto Le parti fuori lo distribuiscono in modo omogeneo E con le parti fuori riuscite a fare la vostra riga intorno alle labbra In tantissimi volete sapere se mi seccano le labbra No, non mi seccano le labbra Li trovo anzi molto molto confortevoli Ma devo ringraziare una ragazza Non mi ricordo chi mi ha dato questo consiglio Comunque scrivicelo qui sotto se sei stata tu Mi sia stata di grande aiuto Perché la prima volta che ho portato questo rossetto L'ho trovato super mega asciutto E ho detto Che cos'è questa cosa? Ma la ragazza mi ha consigliato Di mettere questo rossetto E non schiacciare le labbra Prima che il rossetto si sia asciugato Cioè se fate quella classica cosa Di mettere il rossetto su una parte E poi unire le labbra Il rossetto diventa super appiccicoso Diventa super secco Si sgretola al centro delle labbra E' una cosa che non unendo le labbra Prima che il rossetto si sia asciugato Ho risolto Cioè non mi si sgretola più Non mi si secca Anzi lo trovo molto molto confortevole E vi consiglio di provare questi prodotti E di provare ad utilizzarli in questo modo Come al solito ragazzi Grazie per aver guardato il video Se il video vi è piaciuto Lasciatemi un pollicione all'insù O iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Lo apprezzo tantissimo Fatemi sapere quali sono i vostri prodotti preferiti Al di sotto di 10 euro Così posso andarli a vedere E scoprire tante altre cosine carine Vi mando un grandissimo bacio E ci vediamo lunedì con il prossimo video Ciao Ciao